In questo video più rilassato voglio raccontarvi dei 5 maggiori benefici che ho ricevuto nella mia vita e che tuttora ricevo facendo ceramica. Tra l'altro io ho iniziato non proprio da pischielletto, ho iniziato a 25 anni da autodidatta e quindi posso tranquillamente affermare che la ceramica è un'arte meravigliosa e non c'è miglior momento per iniziare a fare ceramica che questo stesso. Il primo motivo per il quale ti consiglio di fare ceramica e che per me è stato il più importante è quello che la ceramica mi ha insegnato ad avere pazienza perché ci vuole pazienza sia della fase di apprendimento delle varie tecniche ma sia soprattutto pazienza quando andiamo a realizzare le nostre creazioni non possiamo mai affrettare i tempi nella ceramica. Mi ricordo che all'inizio non aspettavo mai il momento giusto per aprire il forno perché ero super eccitato e quindi pezzi che esplodevano, smalti disastrati, un casino allucinante. Quindi dobbiamo avere costanza nella pratica e pazienza nei risultati. Il secondo motivo per il quale ti consiglio di iniziare subito a fare ceramica è che possiamo creare delle cose vere che possiamo utilizzare tutti i giorni. Pazzesco! Possiamo creare per esempio cose in cui possiamo bere e mangiare tutti i giorni o oggetti per arredare la casa come questo portapiante ma anche per fare regali ad amici e parenti quando proprio non sappiamo che cos'altro regalargli. Hai visto che bello l'ha fatto mio nipote! Vuoi mettere la soddisfazione? Il terzo motivo è fantastico ed è quello per cui facendo ceramica possiamo conoscere bellissime persone che possono diventare delle bellissime amicizie e arricchirci la vita. Ho conosciuto persone fantastiche nei corsi che ho organizzato e che organizzo e che mi hanno insegnato tantissimo nonostante dovessi essere io quello che in quel momento stava insegnando qualcosa. E poi ci sono tutti gli altri ceramisti che nel 90% dei casi sono persone fantastiche, delle anime creative, umili, prodiche di consigli, persone veramente fantastiche, piene di gioia e tra l'altro molto simpatiche. E l'altro 10% sono un po' stronzi, sì, sì. Il quarto motivo è importantissimo e non è da sottovalutare perché la ceramica può diventare una fonte di guadagno, può diventare un vero lavoro. Infatti possiamo guadagnare dal vendere le nostre creazioni o dall'organizzazione di corsi dal vivo o online e magari anche diventando famosi ceramisti su YouTube. Io sono ancora all'inizio ma se ti iscrivi al canale e metti mi piace ai video sicuramente diventerò ancora più simpatico. Il quinto motivo tra i più importanti per i quali ti consiglio di fare ceramica è il rilassamento. Tutte le persone che si avvicinano per la prima volta alla ceramica mi dicono non mi rilassavo in questo modo da tantissimo tempo. E come dargli torto? Per esempio per me il tornio è la mia meditazione quotidiana. I movimenti circolari del tornio quasi mi ipnotizzano e fanno sparire qualsiasi pensiero e le mani sull'argilla rendono tutto molto molto più leggero. Siamo arrivati alla fine e quindi vi consiglio vivamente di iniziare da subito a fare ceramica. Se volete sul mio canale trovate molti video sulle tecniche di base per appunto iniziare a fare ceramica e se volete mandatemi i vostri primi lavori qui o sulla pagina di Instagram di Ceramica per Tutti e noi ci vediamo presto con un nuovo video sulla ceramica. Alla prossima! Hai visto che bello l'ha fatto mio nipote?